Ciao a tutti, benvenuti in questo momento all'attivo, andiamo a vedere se la persona che avete pensato vi sta dimenticando, facendo tre varianti, la prima variante quarzo rosa, seconda variante quarto di punta di alino e terza variante quarzo ametista. Allora, questo video è valido dal momento in cui lo guardate, vi invito a seguirmi sui social e iscrivervi sulla mia pagina YouTube. Adesso inizio con la prima variante, quindi per la prima variante vediamo se vi sta dimenticando. Allora, io vedo un impegno in realtà, tra l'altro qua lo indica sia il 7 di denari che l'8, quindi c'è proprio un impegno e tra l'altro sta anche aspettando. Allora, non penso che vi sta dimenticando, lui è solo qua, sta cercando di guardare probabilmente tutto con un'altra prospettiva, sta cercando di capire chi ha sbagliato e in che modo. Tra l'altro, come centro qua c'è anche un sentimento. Andiamo a vedere la risposta degli angeli. La risposta dice, ripensaci. Questo oracolo sta dicendo che comunque devi riguardare delle situazioni successe, esattamente come lo sta facendo lui. Allora, tra l'altro, questo momento proprio che può portare il cambiamento. Probabilmente ci sarà un momento migliore o comunque ti renderai conto che desiderano una trasformazione diversa per te. Quindi probabilmente devi un attimo rivedere anche tu, provare a vedere anche tu un'altra prospettiva, a guardare il suo punto di vista e cercare di collaborare, di venire in un incontro e cercare appunto di trovare un'unione. Questo per quanto riguarda la prima variante. Adesso passo alla seconda. Eccoci per la seconda variante, con la quarzo di alino. Andiamo a vedere se ti sta dimenticando. Ma allora, in realtà lui sta facendo un spezzifone dentro di sé, sta guardando più il suo essere più profondo. Ma in realtà non vedo che ti sta dimenticando, anzi, vedo che comunque, nonostante se è allontanato, eccetera, comunque vedo che vuole tornare addirittura a essere felici con voi. Quindi, probabilmente, ultimamente tra di voi c'era un po' di noia, un po' di cose ripetute, forse non c'erano abbastanza stimoli. Tra l'altro vedo molto pensiero. E qua c'è anche l'imperatrice. Quindi, anche lui vuole anche qualcosa di concreto. Direi che non vi sta assolutamente dimenticando. Vediamo la risposta di un po' di tempismo perfetto. Quindi, questa carta indica, tra l'altro, che questa attesa potrebbe essere venuta, innanzitutto, nel momento migliore. Proprio per dargli modo di capire determinate cose. Difatti, mi viene anche da dire che tutto si sistemerà e verrà tutto nel momento giusto. Quindi, questa è per la seconda variante. Adesso andiamo a vedere per la terza. Per la terza variante. Quarto diametista. Andiamo a vedere se ti sta dimenticando. Allora, qua vedo... Allora, qua vedo... Allora, qua vedo... Allora, qua vedo... Allora, qua vedo...